Crutch Bindset! Benvenuti cari amici del canale DumpaTragby, 15 della settimana. Oggi in versione un po' differente, con delle immagini come qualcuno mi ha chiesto. Imparerò anche ad editare, però per adesso ho trovato una maniera per arrangiarmi e inserire delle immagini. E allora partiamo subito. Via, pronti, mezzo, via. Eccolo qua. Numero uno, numero uno, Nika Abulazizze. No, Nika Abulazze, scusate. Veni, vidi, vici, direi io, perché quello che si dice un impact player entra, entra e si prende il calcio di punizione della vittoria, solleva, si porta via Wainwright del Galles e regala alla Georgia, così come l'abbiamo avuta anche noi, la loro Cardiff. Numero due. Numero due, Julien Marchand, player of the match in Francia-Giappone, ennesima dimostrazione che ormai i tallonatori sono terze linee aggiunte nel breakdown, nel fetching, nel fare il grillo talpa. Julien Marchand è uno dei migliori del mondo. A lui la numero due di questa settimana. Numero tre, numero tre con questa bellissima capigliatura, Will Stewart. Due mete, due mete per portare l'Inghilterra a un passo dall'impresa. Ah, se solo Marcus Smith non avesse calciato quel pallone fuori. Comunque lui si prende meritatissima la maglia di filone destro di questa settimana. Numero quattro, seconde linee. Eccolo qua, guardate che bestione. Era la partita dei suoi cento cap e ha risposto presente sia nelle collisioni sia in touche. Un vero e proprio gigante Brody Retallic. Numero cinque, l'altra seconda linea. Beh, ce la ricordiamo bene, ce la ricordiamo. A proposito di giganti e di impact player. Quando è entrato si è sentito eccome. Lo ha sentito ad esempio Capuozzo, che si è visto arrivare veramente a questo bestione più di una volta nella pressione sulle exit strategy. Lo ha sentito Ruzza, in rimessa laterale, è stato spostato un paio di volte, ma lo hanno sentito soprattutto gli Springboks. Hanno sentito la presenza di uno dei più forti giocatori del mondo che è entrato a dare una mano e a dare la svolta alla partita. Ebbene Zabet. E restiamo in territorio sudafricano per scegliere il numero sei. Numero sei, Siacolisi. Tra l'altro, attenzione, molti di questi giocatori c'erano anche la settimana scorsa. Ebbene Zabet, Siacolisi, poi ne troveremo altri. Sempre più importante nel gioco e nella gestione. Allora, per capire poi l'importanza di Siacolisi nella gestione, non so se vi ricordate quella frase che dice all'arbitro quando l'arbitro va a rimpoverare Bongin Bonambi. Gli dice, scusa, è mia responsabilità nel non aver saputo controllare i miei giocatori. Insomma, da manuale dei capitani, Siacolisi. Numero sette, numero sette. King Charles. Allora, io ho visto la partita con il commento Twitch di un Twitcher appunto francese. Tra l'altro, in maniera innovativa anche qui per creare contenuti, c'erano quasi 3.000 persone collegate, eccetera, eccetera. E ogni volta che aveva la palla, Charles Olivon, mettevano di sottofondo la musica classica e facevano una riverenza a Leroy, a King Charles, Charles Olivon. Perché veramente è regale, è delicato nella nella sua brutalità. È bello, è un re, è reale. King Charles, Leroy Charles, Charles Olivon. Numero otto. Numero otto invece andiamo in Irlanda. Man of the match della partita. Irlanda-Australia. Non semplice la vittoria dell'Irlanda con l'Australia, però semplicemente immenso. Ne abbiamo parlato anche ieri con otto. Cullen Doris. Numero nove. Allora, qui c'è un'animità in tutti i man of the match dei vari portali di questa settimana. E la numero nove di questa settimana va questo signore qui con questa faccia così simpatica. Vassil Lobzanizze. Ce lo ricordiamo anche lui in quella famosa partita che stiamo cercando in qualche maniera di dimenticare. Ispiratore del gioco giorgiano che, lo sappiamo ormai, non è solo mischia. Numero dieci. Rullo di tamburo. Bam. Beh, insomma. Insomma. L'altra volta Finn Russell l'ho commentato con quattro parole. The magician is back. Questa volta lo commento con una parola composta che è stata scritta nel Twitter della federazione scozzese. Fincredible. Incredibile. Fincredibile. Mamma mia che creazioni che ci ha regalato. Finn Russell è realmente un dono per il rugby. Numero undici. Numero undici. anche questo. Ce lo ricordiamo bene. Ce lo ricordiamo bene. Se lo ricordo ad esempio Luca Morisi vederselo... Ah no no. Quello era Colbe. Scusate. Ma in tantissime altre azioni. Pensavo a quell'azione dove gli hanno rubato la palla. No. In tantissime altre azioni però insomma. Ce lo ricordiamo nella partita contro l'Italia. Carly Arens. Carly Arens. Ha messo letteralmente a ferro e fuoco la difesa dell'Italia. Fa un paio di mette. Regala un assist. Sguscia da ogni lato. Carly Arens. Questi giocatori di Seven eh? Questi giocatori di Seven si adattano proprio malino al quindici eh? Un altro sport questi di Seven. Numero dodici. Numero dodici. passiamo al numero dodici. Ecco. Sto signore qua. Sione Tui Pulotu. Tra tutti i famosi naturalizzabili. Questo ce lo siamo lasciati scappare. E forse ci sarebbe servito. E quanto ci sarebbe servito. Sione Tui Pulotu. Numero tredici. Rieco. Rieco. Ioane. In difesa e in attacco. Sempre protagonista del gioco All Blacks. Numero quattordici. Numero quattordici di questa settimana. Darcy Graham. Darcy Graham. Insomma tripletta. E non è da tutti. E non è da tutti i giorni. Darcy Graham. E infine. Numero quindici. Il numero quindici è uno dei punti fermi di Eddie Jones. Segna una delle tre mete della remuntada. Della remuntada quasi quasi completata completata solo fino al pareggio. Si salda la quindici sulle spalle nonostante la concorrenza che spinge come ad esempio negli oddelli che vorrebbe potrebbe ritornare nelle scelte di Eddie Jones. Però per adesso questo è un vero fenomeno ed è l'estremo dell'Inghilterra. Freddie Stewart. Bene ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate di questa versione più visiva. Versione anche più breve del quindici della settimana. Per il resto il solito saluto. Fischio finale. Un grande grandissimo bacio. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E ci vediamo domani con Gianmarco Lucchesi. Alle sette e mezza punto d'incontro intervista con Gianmarco Lucchesi. Invece pubblicherò in mattina se riusciamo a fare l'appuntamento settimanale con Lorenzo perché avevo letto da qualche parte nei social che erai in questa settimana non era era un po' febbricitante. Quindi vediamo vediamo se riusciamo a fare entrambe le cose. Comunque sicuramente alle sette e mezza con Gianmarco Lucchesi punto d'incontro. Preparate le domande. Se volete anticiparle potete farlo nel post tab community dove ho già fatto l'annuncio. Ciao. A domani.